Ciao, sono il professor Dino Longo dell'Istituto Scolastico Marsano per l'Agricoltura e l'Ambiente. Da tanti anni insegno in questa scuola e in particolare nella sede di San Colombano. Una delle sfide più importanti che ci aspetta è quella del cambiamento climatico. Se anche tu vuoi partecipare a questa sfida, vuoi lottare contro il cambiamento climatico, vuoi aiutarci a costruire un mondo migliore, più verde, più adatto alla vita dell'uomo, iscriviti a questa scuola. Ciao.